La protagonista deve raggiungere le munizioni, altrimenti muore e diventa il nemico. Ok, ok, ce l'ho. Quindi la nostra trova il cadavere di un compagno, accanto c'è un'arma fighissima. Ti concentri sull'arma e non sul compagno caduto. No, lei sapeva che sarebbe stato il primo a morire. L'eroina cerca di abbandonare la missione e scendere dal ponte. Sto facendo il tifo per una che si arrende. Oh, sì, hai ragione. Gli eroi sono eroi. Non c'è fuga dall'inferno.